buonasera ai giornalisti della stampa digitale e non taxi in qualità e quantità qui dietro ce n'è ancora di più qualità e quantità vedi questo per i signori della stampa che fanno tanta pubblicità negativa ai tassisti ok guardate qua questa è gente in attesa ma non dei taxi perché non sono ancora le 23 quando smette tempesta quando smette amtab quando smette il trenino della bari nord e quanto altro però adesso come potete vedere da un bel po di tempo siamo fermi qui in attesa qualità e quantità grandi piccolini di tutte le dimensioni guardate qua però la gente non sta aspettando i taxi no aspettando i mezzi pubblici poi dopo le 23 30 che succede che i mezzi pubblici non ci sono più e tutti dicono come mai i taxi a bari non ci sono però questo dopo le 23 30 quando manca altro che sono amtab tempesta trenino della bari nord le navette dei bnb privati che non possono fare il servizio ma facciamone anche passare sempre quantità e qualità di qua di là ma tutti attendono altro tutti attendono altro solo la notte dalle 12 e mezza anzi dalle 12 un quarto in poi si ricordano che esistiamo noi e no non ci sto a questo gioco non ci sto questo è un gioco sporco perché attaccare una categoria senza sapere i motivi è un gioco sporco eccoli qua i taxi a grattarsi le cosiddette si può dire le cosiddette penso di sì se no taglia le cosiddette giornalista andiamo avanti indietro l'utenza è tutta lì ad aspettare pulmini pullman parenti tutti quel che la notte non ci sono